Un saluto a tutti da Stefania Cattaneo di Trebimeteo, vi ricordo che potete scaricare la nostra applicazione per smartphone e tablet e restare aggiornati con noi in tempo reale. Io mi mostro che questo anticiclone sarà duro ad andarsene, infatti viene alimentato da delle masse di aria calda subtropicali e che arrivano fino all'Europa centro-meridionale coinvolgendo appieno la nostra penisola e lasciando le perturbazioni atlantiche lontane così come la pioggia. Quindi abbiamo questa situazione di stabilità, di clima molto mite con temperature particolarmente gradevoli in montagna quasi simile estive, pensate che arriviamo ai 15-16 gradi a 1500 metri e 11-13 gradi a 2000 metri. La situazione è questa, vi segnalo soltanto delle nebbie o delle foschie durante le ore notturne del primo mattino in Val Padana e nelle valli interne del centro. Per il momento da trebimeteo.com è tutto, aggiornamenti sul nostro sito oppure scaricate la nostra applicazione.